Andrea Capobianco sarebbe partito senza dire nulla a nessuno dei suoi familiari. L'accorato appello del fratello attraverso i social si rivolge a chiunque possa dare notizie di Andrea. 34 anni, scomparso ieri il 18 gennaio, un ragazzo alto 1,94 m circa, dalla corporatura magra, capelli rasati. Dalla descrizione, nel posto dei familiari dovrebbe indossare jeans chiari e stivaletti beige con un maglioncino giallo, giubbotto blu. Potrebbe avere con sé anche occhiali da sole o da vista e un barretto di lana rosa e bianco. La famiglia, che si è già rivolta alle forze dell'ordine e molto preoccupata, chiede a tutte le persone che lo abbiano visto di mettersi in contatto con loro e di aiutarli nelle ricerche anche al di fuori della Sicilia.